Con Ugo Schiavi che è il team manager della Gelbison per commentare questa partita, commento da parte della Gelbison. Buonasera, è una partita che sapevamo che era difficile, abbiamo iniziato bene, 15 minuti bene, però sapevamo benissimo che questo Pescarra se lo lasci giocare, lo lasci correre, ti mette in difficoltà. Siamo riusciti a riadrizzarla nel corso del secondo tempo, poi purtroppo era una partita ben combattuta da entrambe le squadre, infatti i gol che sono arrivati su calci piazzati confermano il fatto che le squadre si sono più o meno equivalse. Certo, il Pescara è una squadra che non si discuta, è una squadra che è ben messa in campo, un altro blasone, un altro portafoglio, quello del Pescara, però ci credevamo almeno in un punto perché valeva sicuramente l'oro per la salvezza. Il vostro allenatore era squalificato oggi, c'era il vice in panchina che è stato espulso all'intervallo, che cosa è successo? No, nulla, questo mi confermava adesso proprio l'arbitro a consegna dei documenti, nulla di grave, è stato tutto nella norma, nel senso che non è stato offeso l'arbitro, però una protesta un po' ripetuta per i tre minuti di recupero del primo tempo che poi hanno causato il vantaggio del Pescara tutto qui. Ci sono stati gli infortuni di Vergani e di Cragnellutti e quindi il direttore di gara ha dato quei tre minuti di extra time, detto questo le faccio un'ultima considerazione, la Gelbison ha questa etichetta tra virgolette di squadra fortissima in difesa, la terza miglior difesa se non erro del girone, quanto vi ha fatto soffrire l'attacco del Pescara, soprattutto il lavoro di Rafià da mezzala? Tanto, sicuramente noi abbiamo sofferto anche negli inserimenti delle due mezzale, ma soprattutto abbiamo peccato un po' di concentrazione in alcuni momenti, ripeto come dicevo prima sapevamo che lasciare giocare il Pescara era qualcosa di deleterio, però insomma siamo più o meno riusciti a tenere testa al Pescara, però è una bellissima partita quella del Pescara, peccato. Peccato per noi.